Le corazze Fasina Le corazze Fasina I soldati romani vincevano grazie alle corazze. Le corazze Fasina Le corazze Fasina Alle nove attacchiamo lo stesso. Mancano pochi secondi. Certamente, via l'ordine. Signori ufficiali, in testa i reparti! Pronti per l'attacco! Saloia! 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 some! Saloia! Salonia! Aguilar! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avanti, soldati della mia gloriosa divisione. Avanti. Avanti. Eccolo là il nemico. È alle spalle. Soldati, alzatevi. E speriamo là. No, 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 no. No, no, no. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, era anche inutile riportare un cadavere. Non era ancora morto. Sì, è vero.